Ciao, come va? Oggi ho preparato per voi un'attività di comprensione orale per il livello principiante, quindi il livello A1. Ascolteremo insieme una storia molto semplice, ho cercato anche di parlare abbastanza lentamente e vi ricordo che sul mio sito potete trovare la trascrizione di questa storia con una lista di vocaboli, un test di comprensione e diversi esercizi. Il telefono squilla a casa di Arturo e Arturo risponde. Pronto? Buongiorno, stiamo facendo un sondaggio per conoscere meglio le abitudini degli italiani. Ha un minuto per rispondere a qualche domanda? Sì, certo. Bene, allora la prima domanda è... A che ora si sveglia la mattina? Mi sveglio quasi sempre alle 8, ma il weekend di solito mi sveglio più tardi, alle 9 o alle 10. Qual è la prima cosa che fa quando si sveglia? Normalmente faccio colazione. Cosa mangia a colazione? A volte latte con cereali, a volte uova fritte e toast e spesso bevo una spremuta d'arancia. Non beve caffè? No, non bevo mai caffè. Va bene, e dopo colazione cosa fa? Mi lavo sempre la faccia e i denti. Poi mi vesto per andare in ufficio. Come si veste per l'ufficio? Casual o elegante? Casual. Non mi vesto quasi mai in modo elegante per lavoro. Solo quando ho una riunione con qualche cliente. Ma questo succede raramente. Capisco. E come va il lavoro? Prendo l'autobus. L'autobus passa solitamente alle 8 e 45 e alle 9 in punto sono in ufficio. A che ora pranza? Quando sono al lavoro abbiamo una pausa a mezzogiorno. Nel weekend qualche volta a mezzogiorno, qualche volta a luna. Non ho un orario preciso. Capisco. Dopo il lavoro cosa fa? Torno a casa. Faccio una doccia. Fa più frequentemente la doccia o il bagno? La doccia. Faccio il bagno molto di rado. Quanto spesso fa la doccia? Tutti i giorni. Di solito una volta al giorno. Dopo il lavoro. Ma quando vado in palestra anche due volte al giorno. Dopo il lavoro e dopo la palestra. Ah, fa anche sport. Sì, vado in palestra tre volte alla settimana. Bene. E la sera cosa fa? Innanzitutto ceno. Innanzitutto ceno. E poi dopo cena spesso guardo la tv o qualche serie sul mio laptop. Ogni tanto leggo un libro oppure ascolto un po' di musica. Verso le undici di sera o a mezzanotte al massimo vado a dormire. Ha anche degli animali domestici? Sì, ho un gatto. Si chiama Macchia. Se vuole continuare a fare domande a lui glielo passo. Io ho molto da fare adesso. Macchia, vieni. C'è un signore al telefono che vuole parlare con te. Ma... Se avete trovato utile questo video mettete un like e iscrivetevi al mio canale. E vi ricordo che sul mio sito potete trovare tantissime risorse per imparare e migliorare il vostro italiano. Diventando membri su Patreon avrete l'accesso a tutte le trascrizioni degli episodi del mio podcast, a tanti esercizi interattivi e a tutti i corsi dal livello A1 al livello B1. Ciao! Ciao!